Vai, sono bello carico Portiamo Dynamike al 30 Quale skin utilizziamo? Boh, questo è figa Non lo so in realtà, cioè Mi sa molto di Sekiro Non lo so, che dite rega? La scioppiamo nel chill? Ma si dai, chi se ne frega, tanto I soldi ma ne vengono Vai, ok Matti ho scioppato questa skin solo per te? Solo per te? Solo per te? Certo Matti, ovvio, ovvio, appena poi arriviamo magari Sì, facciamo giusto 150 coppe Appena siamo belli alti Poi ti metti col tuo Riusciremo? Ce la faremo? A portarlo al grado 30 Ma c'è Juned mi sa, però non mi risponde Vabbè, niente Ce la faremo a portare il nostro Caro brawler, caro Dynamike Al 30, questo è uno dei miei preferiti ragazzi È sempre stato uno dei miei sogni Portarlo al 30 E onestamente uno dei miei obiettivi È farlo, però Per far sì che questa cosa accada Secondo me Dobbiamo farci aiutare da un altro Ragazzo Che sa giocare a questo gioco Chi se non Lau? No scherzo, Laura non sa giocare Eeeh Non lo so in realtà Ci sarebbe i genni Ma quello utilizza i brawler Che hanno 50.000 coppe Ed è impossibile Vabbè, giochiamo tra di noi Per ora, guarda, senti Andiamo a fare Allora, aspetta Foot brawl Quale facciamo? Matti, quale dici? Foot Brawl che è sempre meglio per pushare, no? Sempre più veloce per pushare, giusto? Sopravvivenza, ma sei pazza? Che sette anni ci vogliono in sopravvivenza Foot, foot Facciamo foot, let's go! Perderemo tutte le partite, vai, ok Ok, calma, calma Calma Proviamo intanto pure la nuova skin Ma che belle le animazioni Ma bellissime, Chiron Abbiamo già perso, calma Un attimo che mi devo ricordare un secondo come si gioca A questo videogame, proprio videogame Proprio quest'opera videoludica Un attimo, eh, scusi, sono morto di nuovo Raga, però non si può fare così Ok, bravo Matti, sei un pro gamer Sei Matti, madonna che culo Guarda come l'ammazzo quello stupido Ok, eh ragazzi però io c'ho due di vita Eh, è normale che ci crepo Sì, sì, un videogame, un videogame, abbiamo preso Gol, palesemente, GG ragazzi Mamma mia, faccio cagare Eh, calma Eh, vabbè zio, ma Impossibile, cioè Attenzione, Xiao Eh, sì, buonanotte C'ho uno di vita, raga, è finita per me Devo detto io Qualcosa mi dice che non ce la faremo mai Dov'è Manu quando mi serve? Dov'è Manu? Quel ragazzo con pro player Che non viene più in live Tutti li ho persi i miei amici pro player Tutti li ho persi Flash se n'è andato Manu se n'è andato Matti è forte, eh Però siamo da soli Con un random È la mia missione di oggi Lo devo portare al 30 Dynamike, non me ne frega niente Allora, calma un attimo Tanto ci diamo 1-0 È ancora tutto fattibilissimo Bravo Ah, eccolo Eccolo Manu È tornato dalla vacanza Vedi di entrare con lo smarf Manu Guarda che qua siamo in estrema difficoltà Estrema difficoltà Dobbiamo fare calcio Vieni Vieni Manu che dobbiamo fare calcio C'è Dele Adani che gioca con noi C'è la min con la zurda qua Per favore Vieni a giocare, grazie E qua la cosa Se no È veramente grave Zio Perla Eh sì Vabbè La prima era di riscaldamento Ci sta che abbiamo perso Vai, vai, vai Adesso ti invito Adesso ti invito Adesso ci divertiamo Ora che entra Manu Ora che entra Manu Ci si diverte qua Allora, ma da dove ti devi invitare Però scusami Devi entrare immagino Giusto? Vabbè ti aspetto Dimmi tu quando ci sei Di a chiunque Zio Pera Manu ho trovato tutte le skin Lo sai? Tutte le skin di Rico Tutte, tutte, tutte Le ho trovate Ok Mamma mia Ok Ti amo modo di dire Boh Vabbè Mamma mia Guarda che bello Leggere il moderatore Vicky Ha silenziato Simona Per this live Cattiva Vicky Vai Per favore Per favore Per favore Oh Che ora con i miei amici Che poi in realtà Manu è un dynamite Veramente incredibile Però mi dispiace Manu a sto giro Ce l'ho io in mano Ce l'ho io in mano In mano Scusa Sono un po' cringe Eh L'ho avanti Attenzione Attenzione Il nuovo Lamin Yamal Ci abbiamo Nuovo Lamin Yamal Di Brawl Stars Di Foot Brawl Proprio Mamma mia Ma li abbiamo devastati Porca miseria Zio Pera E ora si cucina serio E ora si cucina serio Ok Boia Cos'è? Vabbè Ok Ecco il calciatore Sì 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 È lì proprio lui Raga mi sta taggando tutti i video Di Diario di Segreto Mi dispiace averlo mollato Verso mezzanotte E vabbè sono Ce la facciamo penso No ma no minchia Due ore abbiamo Che davvero Ma tanto puoi considerare Che io per mezzanotte Devo staccare Quindi Vabbè fino a quando Riusciamo a pushare Pushiamo Poi si vedrà Godo muori Boh Ok Quanti brother hai al 25 Eh Nessuno in realtà attualmente Perché tutti quelli Che avevo al 25 Li ho portati al 30 No Eh qua sono morto Raga Qua sono morto Raga Ok Godo Aia Che palle Mamma mia E ci hanno segnato però Ci hanno veramente segnato Ci hanno veramente fatto gol Ragazzi qua la cosa è veramente Si mette male Godo Le cose si mettono male qui ragazzi Ok Godo schifo Godo muore Ok E si va così E si va Oh porca miseria Non ci credo Ma che gol ha fatto quello Ma che gol ha fatto Ma che gol ha fatto Boh Incredibile questo uomo Infermabile dicono Sai chi sono No Per niente Io la gente che mi scrive Che entra Sai chi sono Ma come faccio a sapere chi siete Raga Cioè esattamente Come dovrei saperlo Abbiamo vinto Sì 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 No Ginevra non lo so chi sei Ti ricordi di me Ti ho chiesto la foto a Romix Troppo poco ti banno Laura Anzi ti faccio bannare da una di loro Così almeno godono pure Penso che non ci sia cosa più soddisfacente Di mettere il time out O bannare Laura Raga Giuro Penso che sia tipo uno degli obiettivi Che proprio voi mod Volete raggiungere Penso che sia una delle cose più belle A cui si può ambire Tipo nel 2024 Bannare Laura Mammella E gol E gol E gol E gol E proprio gol E proprio gol E proprio il gol signori Il gol del bomberazzo Godo No Laura dai sto scherzando dai Dai ma tu sei licenziata Boh Oh siamo quasi a 21.000 cop Dai che Giorgia smette di fare la figa Proprio lol Ok Ah te lo puoi togliere da sola Laura Zio pera Veramente eh Grave No non ci credo Mannaggia il demonio Ma adesso sei a Milano Io ci abito a Milano Raga No Perché non so giocare a questo gioco Avrei dovuto mettere il coso lì Madonna scusate Raga a volte sono proprio stupido Sono proprio Ok godo Calma Calma Godo Godo Mamma mia Mamma mia Sono proprio artistico Sì 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 A volte sì A volte sì Ok No zio ti prego E qua E qua lo schifo Boh Mattia che nel frattempo super chill va a segnare Scherzavo No 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 calma raga Godo Boh Deletati Proprio deletati Abbiamo perso No scherzavo Con mano non si perde mai Con mano non si perde mai Ok prendo la palla io eh Tranquilli Ok Godo schifo E si va così Non ci credo No c'è proprio l'overdrive Ma sono un idiota Ok Vabbè tanto quello va a pushare schifo adesso No Ma non ci credo raga Ma non ci posso credere zio Ok No 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 Ma gliel'avete passata Ma gliel'avete passata Madonna santa No non ho cucinato Cioè sto cucinando adesso Ho iniziato Ho iniziato a cucinare ora Mi ha scritto Mario Roblox Elden Ring Cosa Vai vai Manu Facciamo rapina vi prego K.O. dici Ok Mio zio Kiron Invitami con l'account di primo Ok Quando lo trovo Grazie Giulia Vabbè Ok Sì Johnny lo conosco Ok Mio zio Kiron Eh ma sta mappa è una dynamite Mi sa eh Eh gattino Non c'è E scusami Gabripros Non ha senso quello che dici Non è il discorso di essere traiardino Io semplicemente faccio video su Youtube E quindi scioppo come un animale Perché ci guadagno un sacco di soldi dal gioco E quindi scioppo Per farci anche i video Io odio Cioè so che ovviamente tu non c'entri nulla Però vi dovreste togliere ragazzi dalla testa Questa mentalità che avete Di paragonarvi voi ai content creator Se io devo crearci contenuti Non posso essere minimamente paragonato a voi Che giocate solo per divertimento O per i fatti vostri Io ho delle persone che guardano i miei video Quindi non è che posso fare le partite nel pomeriggio Con i miei amici e basta E' normale che devo spenderci dei soldi Come investimento nel gioco Per far si che i video comunque vadano Quindi è normale che c'ho tutti i brother Come tutta Youtube Italia Cioè boh Comunque non lo so se Dynamite è buona per sta mappa raga Se volete continuiamo Cioè non faccio una kill Eh no non lo è per niente Finchè non perdiamo proviamo Ok Madonna Quello c'ha una mira vergognosa Mi fa paura Allora calma un attimo Ok Eh ovviamente addosso a me no Ok godo Tanto prima o poi devo uscire C'è la safe arriverà Godo Ok Ciao Martina ci vediamo Ok Mio zio Kyron Popo Kyron Con la K La A e la I Kyron Calma Calma Devo ricaricarmi la vita Questo è morto no scherzavo No No Perché l'avete fatto raga E mo questo mi arriva palesemente addosso Vabbè uno di vita gli è rimasto Scoppiasse Ma com'è possibile che rimane vivo raga C'è No raga L'avrei ammazzata Zio pera E' impossibile così Perché lei è dalla distanza Come dovevo fare C'è Scusatemi Però non è proprio così semplice Ci ho provato Infatti proprio non è la mia mappa C'è Bravo Bravo Kyron Aia 48 di vita Aiuto Devo ricaricarmi Ma Mattia è veramente morto dalle spine no Madonna Quella è una bestia Sì secondo me va messo Va cambiata Però non lo so Vediamo Vediamo Ah ok Ti ha ucciso Piper Cosa vogliamo fare Cosa vogliamo fare Andiamo in rapina Vogliamo mettere rapina Sì al 30 Devo portarlo Ma boh Ditemi voi Ditemi voi Aia 720 su Dynamite E dentro con l'altro account Con il primo No Sì dico Però cosa vogliamo fare Cioè Perché non è proprio la sua mappa Conviene fare rapina Ma no Perché se no Non posso giocare K.O dice per ora Vabbè Facciamo K.O Vai Come vuoi Mio zio Kyrule Ok Ciao Diego X Ciao Mattias Eh sì Mi da però Lo sto portando al 30 Capito Quindi Non è che lo posso cambiare Il problema è che sono tutti long E mi fanno il culo Cioè Questo io non riesco a colpirli Proprio E muzza Se t'hanno silenziato Ci sarà un motivo Cioè Che hai fatto Per farti silenziare Questa è la vera domanda Godo No Ok Zio Madonna Che culo No T'ho morto Mi sa Ok Allora Mi devo ricaricare un attimo La vita Calma Ok Bene Grazie Yuki Madonna L'odio questo gioco Sempre così Ma come faccio a sapere Quanti anni hai Ares Se sei entrato ora In live Io ti voglio bene Ma come faccio a sapere Quanti anni hai Cioè Che domanda è Sai chi sono Sai quanti anni ho Ma come Mica ti conosco Dove faccio a sapere Chi sei Cioè Boh Ora mi risponderà Ho 13 anni Grande Cioè Madonna Cioè Aiaiaiaia Godo Non ci credo Ok Oh ma quello è ancora vivo Veramente Ok Godo Ok Dai 24 ci siamo Godo No Silvio Berlusconi No 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 Ciao Rosy Ma perché ti hanno bannato da Roblox Non mi hanno bannato da Roblox È pieno di Piper Sto Sto coso Aiuto Mi hanno ammazzato Lo sapevo Zio Pera Mamma mia Quello è un diavolo Un diavolo Un diavolo Ragazzi Se spammate è normale che venite silenziati È inutile che vi venite a lamentare qua I moderatori sono istruiti a Cioè A timeoutare le persone che rompono Cioè Ci sono anche gli altri Già Non è che esistete solamente voi che spammate Boh Farsi carriare Tommaso Ecco quello è il mio segreto Se volevi la risposta Te l'ho data Boh Quello è furioso proprio Zero kill Boh Non ho fatto niente sto game Cos'è che vuole Mattia Posso entrare nel mio account main Eh va bene Ma qua Aspetta No Mattia Non puoi entrare col tuo account main Perché c'hai 40.000 coppe col tuo account main Ciò significa che si rompe di nuovo Come congiune del matchmaking E troviamo solo animali E ci mettiamo sette anni Non credo convenga Non credo convenga Perché sopra le 40.000 coppe C'è quella roba lì strana Purtroppo E io non finirò mai di registrare questo video Mi dispiace ma Eh capito è quello Manu infatti Non si può fare Mi fa piacere Nani dai Dalla big vanilla 1 Zio pera Ma si supercell creatore Si sono supercell creatore Si 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 Però il codice creator Me lo devono dare Perché deve passare ancora qualche mese Masi Sono Sono creatore Creatore di contenuti Io Proprio io Il bustato carriato scioppone Qui ci sono i mitri appellativi Nella community di Brawl E anche Edgar Main Anche se non lo uso da sette anni Però vabbè Questa è un'altra cosa Questa è un'altra cosa strana Che non c'entra niente Scusami lo volevo curare Manu niente di personale Non te la prendo Ok Mio zio Kiron Minchia Per me è impossibile Giocare con Dynamite Così raga Giuro E proprio Cioè Quante kill avrò fatto Quando lo sto usando Dai una macchissima modalità Due Tre Ce la faccio È impossibile giocare così per me Ma ce l'ho Già al 15 Mi sa No no Mi pare di no Al 15 no Forse al 10 si Attenzione 1v1 1v1 quindi E indovina chi vince Raga vi prego Andiamo sul rapina Se no io non posso giocare Andiamo sul rapina Vi prego Cioè va bene che mi state aiutando Però Così minchia Giocate solamente a voi Non mi diverto Vi prego Andiamo in rapina Che ha una Foto profilo abbastanza discutibile Motivo per cui fa questi commenti Mi chiede se sono emo Ciao Gursa Sai cosa vuol dire essere emo? No non mi sono mai tagliato le vene Tanto meno Non ho mai sofferto E non godo quando provo dolore Le uniche cicatrici che ho Sono i tatuaggi Quindi non mi romperi Perché non sono emo No non sono emo E smettila di avere questi pregiudizi Sulle persone Perché avere i capelli tinti E mettere lo smalto È una questione semplicemente estetica Comunque ti posso anche assicurare Che probabilmente di calcio Ne so anche più di te Quindi no Non sono emo Mi dispiace Mi dispiace Mio padre Oh Io ogni volta ti cerco Per aiutarmi a cucinare Tu non ci sei mai Dov'eri? Stavo in live Io poi sono andato a mangiare Ah eri in live Ma dimmi una cosa Praticamente io volevo portare Penny al 30 No? Però tutti mi Tutti mi stanno dicendo Che non è Tipo Meta Eh È vera questa cosa Vabbè ma che te frega Io l'ho fatto 35 l'altro giorno Comunque porta Cosa? L'hai portata al 35 Sì Sono tipo 20 ministri Di gira Quindi Zio pera Zio pera E io ero Vabbè niente Poi alla fine siccome me l'hanno detto Sto provando a portare Dynamike al 30 Ma Un po' Un po' difficile Un po' difficile Perché boh Cosa? Come ce l'hai Penny scusa? Ciao 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 No Penny Penny ce l'ho solo al 18 ancora Perché l'ho usata molto poco Ah ok Ok Sì sì Sto game Giochiamo Ma ho giusto qualche game per farlo N'è un problema Sì 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 Tipo Xiao è meta? No 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 Io dovrei essere bannato dal gioco in realtà Cioè oddio no Allora per la supercell sono meta Perché gli do tipo 1000 euro al giorno Per il resto non credo in realtà Mamma mia Ma nelle casse che hai trovato Tu hai trovato cose buone o? Mamma mia Sì ho perso 500 gem di casse Ma le due casse no? Ahah Che sculato Anch'io Io di brutto Io ho trovato tutte le skin Tranne quella di Shelly Mi manca Quella lì Quella più rara Tutte le trovate Sì sì anch'io Bellissime quella di Riko Esatto Ho trovato la skin di Boo La skin di il primo La skin di Brock Che sono di mio padre Sì ovviamente Bella No ho trovato anche le moti Con quella delle casse Quelli sono bellissime Sì sì anch'io Sono bellissime Soprattutto c'è una che è tipo Tutta animata strana Che è fighissima Sì 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 ma il mio Cioè io ho pensato Di posto una merda Perché prima di aprire 20 casse Mi ha aperto un mio amico In live sempre Uno schifo Ogni cassa che ha aperto Sempre 4 o 3 schifo E basta Ma veramente Sì sì Io ho detto Quanto capito Spende 50 euro Per le casse di merda Apro Ma trovato Allora Mattie Ti metto un attimo in stand by Facciamo qualche game Con Juned E poi ti faccio entrare Subito dopo Va bene Spero tu non mi odi Per sempre Ma non Seconda Mi sa che non ti ho Con il codice Se mi do il codice Sì Te lo do subito Aspetta Allora Eeeh Su Discord Da prima Ti mando il link da Discord Direttamente no Sì sì va bene Ok Allora Eccoti Ok Te l'ho inviato Ok Boh Ginevra va bene Siamo a Machina Dov'è? Sta addormento Raga è fissata Che si deve addormentare Tipo sotto la sedia Facciamo sempre foot Giusto? Sempre Ok No in realtà Ho dormito molto oggi Eh secondo me Quella tosta sarà dal 25 al 30 Ma comunque Dicevo Che C'è da quando abbiamo fatto Maxine Che secondo me Tipo il gioco Tipo è cambiato È successo qualcosa Perché sta diventando davvero difficile Fare i Brawler al 30 Guarda Io sono a dire Che fare i 35 Sono una cazzata Ma ormai da Ma veramente? Mi giuro Ma non so se sono io quella persona O altri Infatti parlo spesso di questa cosa Perché devi capire Che io quando pusho Soprattutto con i ragazzi Con cui gioco spesso Certo E so tipo 4 giorni Che ogni push Che faccio il 35 Può essere anche un Brawler Come kit Ok Faccio comunque 30 Con i streak di fila Cioè io kit l'ho fatto Con una luce e basta Da mille coppe E quindi io Io prima di giocare Dico Se io ragazzi Se segnavo Rang 35 di kit Però quando gioco Mi sembra troppo Fin troppo facile Però questa cosa Mi sa solo io O anche altre persone Quindi spesso Mi faccio la domanda Anch'io Non lo so Io ho avuto Veramente da poco Quindi non lo so Se sono io O altre persone È una bella domanda Insomma Oh no Non ti piace? Sì 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 No va benissimo Va benissimo Era solo divertente Guardarlo così Ah divertente Anche da giocare No comunque A me sembra più facile Anche Rang 30 Soprattutto Rang 30 Ah ok Matti va bene Va bene va bene La mia app preferita Ma in realtà Non lo so raga Non ve lo saprei dire Ce n'era una di K A poco mi piaceva un bordello Però non mi ricordo Cioè non me li ricordo Solitamente i nomi Quindi non è che sto lì a Oh no Non è che sto lì a Niente Sono morto Terminal Non è di Brawl Kiron Penso che tu abbia Sbagliato La modalità preferita Allora ultimamente Ti dico Rapina mi piace un botto Però penso che KO mi piace di più In assoluto Tra tutti Cioè proprio mi piace un botto Eh ma infatti Ti dirò che Cioè tipo ora Boh è impossibile Tipo anche con Dynamite Non si può giocare Perché le mappe Fanno cagare Codo Neanche quella Kiron Ok Caglia Madonna Ma dove è cazzo è uscito quello Non so dove sta Celli Eh Non c'è il troppo La mente è motosi corte Eh la madonna Ci ho provato Ci ho provato Vabbè dai pure fatto Ci ho provato Ok Cosa Celli stellare Ammazza pure Celli davanti Mi spacchi l'angolo Posso anche segnare Mamma mia Di che ti devi Angolo 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 Ho spaccato mezzo mondo Non lo so se ho fatto bene Credo di no Che tipo Spari sull'angolo Il bombone Tiro la palla Ok Oh vabbè Al 25 ci sono Per ora dai Meglio di niente Ok Io voglio il 35 Dai non mi cogi La madonna Però no Allora Il mio obiettivo È portare Il mio brother preferito Al 35 Almeno Voglio farci un video E ci voglio riuscire Pure se ci metto 7 ore Che è Sandy Ci devo riuscire Sandy Ce l'ho al 30 Vabbè Sandy è molto facile giocare Cioè la potremmo anche facile Dici Beh Sandy è molto Non schifo Cioè Diciamo che dopo Che giochi un pochetto Lo impari a giocare Quello intendo Vabbè Fai come sto facendo io Cioè i brawler Cioè mi mancano Ultimo vevole Da fare il 35 E 3 e 4 Sono così tanto tumorali Mamma mia Oh Sono nato tumorali Che non mi diverto a giocare Allora faccio 50 coppie al giorno Un giorno Fentrò il bricatore Madonna Ok Io dopo Col 35 Sono completamente libero Per la mano a tutti Il sabro No è sbagliato No è sbagliato Madonna Ah stai usando Maxin Ok Ok Bene bene Grazie a base di quartiere Grazie raga Non avevo visto le donazioni Grazie mille Bello Oggi Nebra comunque Te ne inventi alcune Suami che sono incredibili È da segnare La voglio memorizzare così Su telegram Emi da oggi Cioè C'hai Non so se Di finire culo O bravura Non so Boh Sì sì Laura è bellissimo Cioè Guarda l'uomo Cioè Mamma mia Scusami Mi hai chiamato per carriarmi O per farti carriarmi Vabbè Ciao simon Ok Godo 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 Ok Ho fatto 4 mila danni Ma che video Media La vedo veramente impossibile Onestamente Ma anche perché Non si vedono A prescindere Sì la mail Qualche volta si è vista Ma chi se ne frega Cioè Va bene Ma non Ragazzi è vero Mi sembra che abbiamo Andrato lei È morto Aia No Ok No uovo Non Guarda Facciamo una sceglata Mi spatti in angolo Quindi questo qua Intendi No Quello della porta Ah Zio pera Ma sono proprio un idiota Vabbè Quindi questo così Esatto Ok ok Ora che lo so Ora che lo so Va bene Daphne Chi non sarà felice Del tuo Come un tumore Come un vero tumore Buono Ok Perfetto Molto bello Molto bello il concerto Siamo cosa faccio Il mio ragazzo online Mando rispondere a 6 giorni Minchia che bel ragazzo Che c'hai Complimenti 6 giorni Lascialo Cioè Dai chi non gliela Aveste regalata Dici tu va Senza problemi Proprio Sono d'accordo Ma Zio pera Che soffrego Non ho capito cosa voleva fare Ok Grazie Giulia Dai Ok Ah ma è tornata nata Con il profilo strano Aiuto Ok Perfetto Non so quanto puoi contare Non è buona Ah dici che non è buona Appena trovi i comp boni Non farai molto Scusa Tranquillo Che sono tutti di fondo Ma ragazzi Sono cose che non fa veramente Guarda Conosco un ragazzo Praticamente Aldana Mike Su qualsiasi account Al 35 Per farti capire Ma veramente Su qualsiasi Il primo Lo sto facendo anche Verso il 2000 Sono tipo 1600 Ah ma quindi Oltre il 35 Cioè tecnicamente Si può andare Quindi Poi semplicemente Non sali più di grado Ma ti salgono solo le coppie Ok Ci sono molte persone Ma se vai in top Italia C'è il top mondiale Vedete gente che C'ha 1400 Nel precipitamento Dei coppie Madonna E C'è stato questo ragazzo Qua praticamente Ti giuro Fa cagare con tutto Ma con tutto Ti dico proprio Tutto tutto Eh Tran con Dina Con Dina Non ho sbaglio Una hit Ma tutto a posto Anata dai Come ci si sente Da avere 17 anni Ok Jenny Davvero ci vuoi Streamsniperare Bene Tra un anno Sono legale Ma in realtà Lo sei anche adesso Anata Semplicemente Non sei moralmente Corretta Forse Dobbiamo modificare La cosa Però va bene Comunque si Sono d'accordo Con te Sì esatto Chironbote No no Ginevra Tu proprio Sei del gasto Lo lascia stare Leva cimano Ok Ma non è vero Laura hai fatto 15 anni L'altro ieri Due anni No vabbè oddio Perché contano anche No Giusto in realtà Chi è che è forte Adoro scegli No no C'è il nostro Cosmetto Sì sì Mano è bravo Mi aiuta sempre A Che sono il primo Devo dire molto bravo Madonna Ci coppia Assio Eh sì Ma dove Ce li hai Ginevra 17 anni Tu Che quando Fari 17 anni Probabilmente Tutti noi Avremmo tipo 40 Stai dicendo Ok Io ormai Da quanti dolori C'ho addosso Ho 40 anni E la cosa divertente Che stiamo seduti Poi a casa Non hai capito Manco di ci facessimo No ma guarda Io ho questa cosa Di sbloccare il collo Tutto Ok In goma Sei finito Ti giuro Mi prendo Non lo so Una vena E ho tutto il dolore Che non abbia più Senza Adoro Non riesco a muovere la schiena Per farlo che vi da una parte Quindi più o meno Sono in goma Amico Ok Guarda Manu come gioca Mi fratello Manu Povera nata Ok Bravissimo No Provo a romperti l'angolo lì Vedi No ti ho rubato il golo Non volevo Ok Ti piace fare lo youtuber Ma si dai Tipo in zaghi Va bene Chiron C'è il Il contesto del commento Non l'ho capito Vabbè Dai Chiron Quando vieni a Roma Ma veramente Tra poco vengo a Roma Ah si Ah nata Tu odi essere youtuber Vabbè Ma non lo sei nata Quindi non si pone neanche il problema Tecnicamente Però vabbè Che sarà cattivo proprio Eh si Lei è una tiktoker Mica non youtuber Allora ci sta No Ho fatto il trick di merdo Cagare 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 Boh Ok Una malina Una malina Una malina Sì La parte che stiamo trovando assolutamente C'è il genere dei morti Si è Basta Che chizzo Sì è lui che sta giocando E basta È vero Ok C'è morti Se vuole No zio Pera non l'avevo visto Vabbè Godo Eh no DVD ma non mi piacciono Sono belli alti Ah chirono ok Bravo Hai fatto bene Sono felice Madonna guarda questi Li fanno easy questi Poi ho suonato Bull tra l'altro Mi suonato Cosa? Ah Bull lo conosci? No L'hai stunnato il Bull 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 vabbè Lo stanno Ok Vabbè Nenata ok Madonna che palle Oh Non si Godo Questo ce l'ha con me C'è la zio Pera No Proprio Proprio No L'opera sul muretto Cioè sarebbe stato incredibile Ok Palli 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 Sì non ce l'ho Però Popa 0 C'è l'ho Aspettiamo Nel problema Cato lo c'è Taracola ulti C'è Manu L'ulti Non è un problema Aspetta che T'ho spaccato l'angolo Sopra qua Basta cagare Buonissimo Abbiamo avuto la palla sopra Eh sì Ma nata oggi Sono cambiate le cose In realtà Perché mi servivano mod Non ce le avevo E ho fatto un po' di Che tiro Marta Sì 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 Eh sì perché Se no è impossibile Cioè mi serviva gente Per forza Quindi niente Come mai brawl Boh non lo so Ogni tanto ci gioco Ragazzi Brawl piace o non piace È sempre un gioco bello Esatto Sì Giacomo è un gioco nuovo Lo conosci? È uscito da poco Quindi magari per quello Non sei ferrato Grande Kiron Iper mega bannato subito Albe cosa è successa ad Ange È diventato una melanzana Ma non mi è staccato Andato troppo oggi Bravo mano Ma tu non ti hai mai giocato con lui? No Non so che posso Ah mi sa che prendiamo gol qua No che vero Ok No ora torna Ora torna comunque Non ce ne sono sopra Non ce ne sono sopra eh Sì sì Stai arrivando qua Mortis non è un problema Provo a romperti l'angolo ma Ok Ok No te lo preso Ci credo Caget c'è la ventola Volei prendere Ok Madonna Uno di vita gli è rimasto Ma cosa punta alla kill? Ma dopo che mi ammazza Che ha fatto? Vabbè Ok 10-0 Ok No Anata Bo Ripiglati Mi vuole Sono uguale Anata va bene Lasciarli Tra 900 ovviamente Se faccio 900 Poi io te lascio Ok Quindi le ultime 100 coppe Saranno realmente sudate Vediamo se ce la fai Ma poi Fa farle Eh mi spiace Ho già dato buca No no Figurati Figurati Anzi Ti ringrazio Come sempre C'è la mappa pure buona Dei premendi Ah provo a spaccarti l'angolo Ma non credo di farcela Poi farete pure gol da solo Sì Guarda come cammina Non ci credo Ok godo Come cammina Verabili C'è il primo Vai te l'ho spaccato Pensavo di essere morto In tutto questo Vabbè Non proprio In realtà Ginevra Vabbè Ok Sono tre game E via Oh no C'è un altro Dai no Ecco Non c'è altro problema Lì Ma no Ma no Ecco Per gol Sì Nata L'obiettivo è quello Poi Angelo è davvero forte Ma dici Il brawler O mio cugino Perché non ci ho mai giocato A brawl Angelo Quindi non credo Va bene E' nata Ok Picca Giacomo Ma davvero Dire che c'è Calma Madonna Giocare con allergia Cioè giocare con i bot È veramente L'allergia Di Il brawler Più sottovalutato Mi dici Forse Forse RT Secondo me Mi piace un bot Usarlo Però vabbè Io poi a livello tecnico Ne so poco Quindi non saprei Onestamente Cioè No L'azio non è morto Ma io E' niente Questa che Mi saprebbe Sì 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 Vabbè Non importa Fanno un gol Stico Viva davanti a te Ok Stunnata Ti rompo anche l'angolo Così magari per la prossima partita E' nata Chiedilo a un'altra Non lo posso dire A chi Viva davanti Viva davanti Vado No zio Ci siamo capiti Nata dai Torico Ci voglio vedere Alla Ok Oh sempre così Io Ma ti rendi conto Vabbè 899 Io farei anche per lui L'ultimo game Ciao Mattias e Nicolas Ok C'è morti Sono sbagliato No C'è Un po' di desto Che poi mi aiuta Non dovrebbe essere Ok Madonna Popo arrasciato In 20 secondi Sì Non hai 70.000 coppe Nata ma dove ce li hai E neanche nei sogni Ce li hai Ok Va bene Quindi scappi Allora Facciamo così Finché non vi arriva il mio compagno Giochiamo Ok 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 Non è che dovevi venire adesso Ma nulla Ah il tuo mini questo E non sono che ti chiamo Nel tuo pen Però Dai Finché non viene l'amico mio Mio zio Chiron No Dovevo stunnarlo Vengo qua No Ragazzo la gamba Provo a spaccarti l'angolo subito Ok Che giocato abbiamo fatto madonna Mamma mia No guarda che quando è caldissimo No passo passo Sì cazzo Non faccio un 35 Ti faccio per un 30 Se gioca come Non so cosa Cioè nel senso bene ovviamente Davvero Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci credo zio pera Grazie Anna Grazie mille per Le rose E da notte Ma fammi cambiarlo Magari Let's go Ski Vabbè Andiamo troppo sul coso So Io tipo Ho provato una coletta Sì sì sono tornato Raga Comunque mancano 104 rose Alla fine dell'obiettivo Fa molto ridere Ma vabbè E brawl Ovviamente Niki Non so cosa ho fatto Ho sbagliato pure la mia vita Perché c'ho il delay Passa Eh scusa Ho sbagliato Ma sono Tumore Ok Eh sono fortini questi Almeno per me Li vedo belli Mamma mia che sbatti E' arrivato quel momento E' arrivato E' arrivato quel momento In cui la tortura inizia Non è vero Oh li pigliassi una volta Dio santo Oh c'è giù Ti prego ti prego ti prego Mi calzo di modo Ma com'è fatto Boh C'è stato lì in angolo Beh oddio Inviglionata Ma che so Aiuto aiuto Tutta la mappa aperta Non faccio al si voglio bene Se andai nella porta Potrei anche segnare Senza problema Andarci a problema Aspetta Forse ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ma me ne hai vinto Le sgoschi Ma questo è una cazzo Ok godo Si esatto Ok Ciao rosi Un bacino Allora Anche mi hai detto Che sta arrivando Ok Ma poi uno vi una emz Ok nata Non so cosa ho fatto Qua No Onestamente Esatto Laura Boh Mamma mia Tutti addosso Ma non ho sonno Alex No ho sonno L'ho messo nella bio Semplicemente perché si Io incredibile Che non riesco a stunnarli Adesso un po' sopravvi Notte sarà ci vediamo Ci ho spaccato l'angolo Di là Bileguai Aspettiamo un secondo in più Prendevi il Rico Non ci credo Che c'è Mamma No Ma davanti a te C'è di Frank Unciso Non ci credo Ok Esiste il regalo Della pagella Gattino Per quanto è rimasto 500 di vita Non ce lo credo Non prende la palla In alto Non prende la palla Siamo Lasciate Ok C'è solo colte In teoria Che dovrebbe essere Un po' di più Sì sì Allora è molto Ok Buonissimo Aspettacelo Ok Ok L'abbiamo fatto Ok Esatto Chironz Ok Cioè il regalo Della pagella Io boh Probabilmente tipo A parte che Uscivo tipo Con la media Del 5,99 Che i professori Mi davano i calci Nel culo Ma poi qual è Il regalo Della pagella Io dovevo regalargli Le cose ai miei genitori Per farmi tenere Ancora dentro casa Ed era già tanto Che sa che mi dicevano Bravo Boh Ma l'angolo Te lo devo sempre spaccare Anche se non c'è Maxine Giusto? No sì sì Non per forza subito Anche un po' più tardi Non è un problema Però comunque Spaccare Eh sì Nata infatti Tenitela magari Se sono andando avanti Con la palla Devo segnare Spacchi l'angolo Ok Sennò Non mi dico Niente Buona amica Devo uscire il nuovo Brother L'Aragosta Tipo Eh sì È fortissima Ah vero? Eh sì sì Fa tipo 36.000 Da anni Con l'ultimo Con la ultima Quanto è che esce? Ad agosto? Una settimana mi manca Mi sa Ah tra una settimana Ok quindi tra poco Nata è il nuovo Brother Tu pensa che io Con quel bro Le faccio 100k Letteralmente Ma veramente? Sono a 99.200 Mille copy sono free E subito ti shoperei Nataccia Beh ho capito C'è Ginevra E scusami una persona Cioè ci sta Come faccio ad aspettare Una settimana Madonna Cos'è Roma Oh no C'è un Sandy È nata quando vuoi Cioè io Me la collerei L'ho detto anche al Kairos Vediamo ad agosto In teoria potrebbe essere fattibile In realtà Senza scherzare Sono serio Potrebbe essere fattibile Verso agosto Cioè verso Io pure domani Potrei venire Però ovviamente Se non siamo organizzati C'è poco senso Ghira 104 Odio l'Inter Grande Oddio Ma Kiron Guarda Se non mi fai pagare l'hotel Fra ancora Ancora più top E riamissile Onestamente Perché pure domani Vengo se vuoi Cioè Nel senso Non che abbia problemi Per l'albergo Nel senso Però Cioè Almeno stiamo pure insieme Domani Sembra esagerato Mi dovrei preparare un attimo Però sì Volendo Mi vengo a fare Anche una settimana Senza problemi Tanto c'ho il pc portatile Che è una bestia Almeno Giustifico i miei 2000 euro Di spesa Ma tanto Comunque con i video Sono stra avanti Cioè Potrei veramente Andarmene anche ora Vabbè ho capito Anata quando torni Scusa Sì sì Kiron Sono serio Sono serio Ma te l'avevo già detto Che comunque Mi sarebbe piaciuto Eh Godo Ah torni a settembre Quindi dovrei fare a luglio Ok Ma non è detto che Dipende da Kiron Più che altro I giorni liberi Che c'è lui Cioè Aspetta 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 Un po' Ok Vado Ma Eh c'era La bolla Mortale Sono doppia forse Anche Non posso La ultima Dimmi tu Vabbè Kiron Noi ne parliamo Su discord Appena poi Chiude la live Magari Merda 1-1 Posso accettare Mamma mia Che culo che ha avuto No ma lui Che serve Se no non muori Ok No Guarda dove si è fermato No Ti arriva in faccia Ti arriva in faccia Eh ho notato Ma hai visto dove si è fermata la palla Sì sì È un odio assurdo Quando è così Abbastanza C'è uno Quale è troppo Qua forse Eh non l'ho Non l'ho beccato Merda Ok Subulizzando questi due Non posso fare roba Eh ti prego No Sgodo No No emma Non l'ho mai detto No però Sì Kiron Davvero Se ci vogliamo organizzare Io Io davvero Vengo più che altro Perché Ancora sta cosa di Gela Non ho capito che cosa devo fare Eh Se ci vado o meno Eh Mario praticamente Non ci andrà sicuro Perché comunque è sceso ora Capi Almeno mi vengo a passare Un po' di Un po' di giorni Così tranquillo Capito Cioè sto almeno con voi E mi diverto Però ovviamente Dobbiamo cercare di far combaciare I giorni per tutti Se tu non riesci Se tu non riesci E poi non riescono gli altri È un casino Ora vabbè Cerchiamo di capire come fare Magari No no Vic Appena finisco di Fare Cioè appena faccio Dynamike al trend Stacco che Mezzanotte Tra poco Se lo fanno Esatto Se lo facciamo Non me lo fanno Lo fanno Poi c'è andato benissimo C'è figa Il fratello ma Non è sapito il diavolo Che Kiron Kiron Angè stiamo registrando Tra un po' finiamo Però se vuoi stare Tranquillo puoi Sì rimango Ma Angè Una domanda Tu Vabbè Ovviamente te la butto Così a caso Te la colleresti Prima ovviamente Di scendere a Gela Di stare un po' Andare a Roma Dai ragazzi Da Kiron Così Poi a Faust Tipo una mini vacanza Di qualche Tipo una settimana Così Non lo so Dobbiamo parlarne più tardi Sì sì Dopo ne parliamo Dopo ne parliamo Ovviamente Mi cogli Mi cogli Mi cogli Impreparato Però sarebbe bello No No sarebbe sicuramente Super figo Infatti Devo Però devo pensarci Devo riferirci Super robbie ragioni Quindi Chiaro Chiaro Quindi yes Per i piccioli Mio zio Kiron Vai Finite di registrare Vabbè Che era bisogno Di dirlo Godo Madonna come l'hai rispinto Che figata questa cosa Fu pronto per sta cosa Ok No C'è l'hyper Merda Ti prego No Ma che Volevo utilizzare Dalla ulti Per spaccare tutto di là Ho usato l'hyper L'ho spiegato Merda Ma io sono morto Questo è un gol per loro Sì 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 C'è un delay Tutte le partite Ma Manu vive in Italia Spero di sì Cioè Veramente se non mi spiego Un ghiacchio odio Buzz Te lo giuro Mi fa schifo Bellissimo Buzz Non ci credo Non mi accompagno Non mi ha ancora risposto Per giocare Ah no Vabbè dimmi tu Poi quando vuoi andare Senza problemi No Vuoi giocare con questo Non so dove sei il mio No Natà Ti stai sbagliando Davvero Alla grande Non è mai esistita Questa cosa Di cui tu stai parlando Boh Mi piace Devevo beccare Charlie Zio Pera C'è Bado Voi Ci sono Aspetta Mamma Un dio Un dio Un dio Eh sì Sì Il colpa tua Mamma mia Niente Si è nata come al solito Sì Ginevra Oh io l'ho detto Se Kiron vuole Cioè se se la collano tutti Io a luglio Cioè questo mese vengo Vengo per una settimana Però appunto Deve combaciare con tutti Perché sono impossibile Però sì Se volete Ci sono E sì Ginevra Perché se poi nata Ad agosto non c'è Come faccio Madonna Serie di pro player Non ce la faremo mai più Maxin parte 2 Siamo pronti Eh sì No da Mi sa che mi lascio Va bene Va bene Giù Ned Fa un'altra mappa Se vuoi farlo in foot Ci sono mappi Di auto Medio Per dynamite Cioè tipo Cioè stanno tipo Campetto sabbioso Tanta roba Cioè sta Stato 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 delle Brawl Tipo diciamo Sì esatto Oppure ritirano È male No ovviamente Non è SD Parlo di altri Ah ok Ok pensavo Di ora Ok No no Dico in foot Ci sono altre mappe Che è molto più bello Però se vuoi farlo Qua su Eh no Oggi sulle mappe Non sono bello Forse forse Gem e basta Ok Va bene dai Intanto vabbè Grazie mille Poi ti farò sapere Vedremo Ciao 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 E Manu che cosa vogliamo fare Vogliamo continuare a provarci Non lo so Dimmi tu Io zio Kiron Non lo so Dimmi Dimmi tu Quanto costa questa skin È 199 gemme Mi sa Io l'ho pagata 5000 bling Un po' di rank Ed tipo di quelle serie Che dici tipo Inizi ora Giochi un'ora E arrivi diamante Nel chilling Vediamo eh Solo con sandy Ranked full sandy Se non me lo bannano Chiaramente Scegli il brawler Vabbè tanto per il momento Non c'è problema di ban Ma non eri mito Sì però la stagione È finita Non ho giocato neanche Una ranked Credo adesso Infatti c'ho zero punti Al massimo Meg E non mangi Per una settimana Ci sta Ci sta Esatto Esatto È vero È vero È vero Hai visto il nuovo gioco Che sta per uscire Della supercell A parte sta mappa È bellissima Comunque sì L'ho visto L'ho visto Lo proverò ovviamente Devo fare il video Quello lì di brawl cinese Raga Me lo dovete dire Appena finisco questo video Delle ranked Mi dovete Mi dovete ricordare Che devo fare quella roba Del brawl Di brawl cinese Per favore Muori No non ci credo Godo Ok Aspettate un attimo Madonna Oh 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 Stai calmo Bro Aspetta che devo mettergli qua La cosa a soffrire E si gode Va bene Va bene morire Tanto comunque gli fa danno Da qua Ok Eh non so come funziona Il brawl cinese Infatti lo voglio provare Raga Per questo Ok Aia No Muoio 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 Vabbè Sto buttando delle morti Tipo completamente a caso Che non hanno senso Però va bene Ok abbiamo vinto Sì vabbè sto fermo Abbiamo vinto Ok Perfetto Ci sta Mio zio Alessandro Che ha messo Bravo E infatti raga Ok solo una Ne ho giocata di ranked L'ho vinta Adesso continuiamo a giocare E facciamo ranked All'infinito Ehm Albe sono sasso Ah ok Ah hai perso l'account Vabbè Ora lo so Ok fatemi prendere Sandy Madonna Instalockati Calmatevi ragazzi Che significa Shottato Che ti uccidono Con un colpo Cioè in realtà One shottato Però io per abbreviare Uso shottato Perché non mi va Ehm Ha brawl Ha brawl cina Ha delle skin Assurde Ma veramente Ma com'è che funziona Raga io non ho capito Cioè ma in che senso Delle skin assurde C'è un brawl Diverso Tipo è un brawl Diverso Un brawl stars Diverso Aia Troppo bello No io non ho mai visto Nulla raga Mai visto niente Di brawl Oddio Madonna Sì una terrible Stavo per fare Stavo No Ho sprecato la ulti Sono un idiota Per pochissimo Tra l'altro Madonna Vabbè Va bene lo stesso Dai Facciamo che a xiao Gli vogliamo bene Comunque Per questo piccolo Sbaglio che ha fatto Mi sa che se lo installi Su ipad Ti vengono i virus E i dispositivi Apple Non possono prendere Virus Comunque Giusto per dire E vabbè Lasciamo perdere Dai God Ho dato l'ultimo colpo Ok Ok Perché prendo 130 punti Così tanti Non lo so Vabbè Oh Che bello Finalmente Delle monete Che non devo comprare Con i soldi veri Che bello Ogni tanto il gioco Mi pensa Sì ora finiamo Questo video E poi facciamo Brawlcina Finalmente K.O La mia modalità Preferita Sta arrivando Oogie Woogie Eh sì raga Ma io non l'ho mai usato Non mi è mai spuntato Perché il mio Tiktok Non è tipo Gli unici video Di Brawl Stars Di Tiktok Che mi spuntano O solo quelli del sindaco O quelli proprio Di Brawl Stars Proprio Quelli originari Proprio di Brawl Per il resto Nient'altro Capito Quindi per quello Quindi per quello Infatti è bello Perché farò il video E sarà tipo First reaction Perché non ho mai visto niente Ve lo giuro Su tutto quello che volete Mai visto raga Quindi sono curioso Onestamente Ok stiamo calmi No Ah ma è K.O. Occhio eh Aiuto Non perdiamolo Non lo perdiamo Questo game Non lo perdiamo Questo game Stiamo calmi un attimo Non lo perderemo Non lo perderemo Non lo perderemo Giuro che non lo perderemo Giuro che non lo perderemo Datemi un attimo Sono stato un po' Uno stupido Poco fa Ok Ok No Eh lo perderemo Invece Lo perderemo Lo perderemo Lo perderemo Il game Lo perderemo Perché sono stato un idiota E mi sono fatto ammazzare Così Grazie mille Maddy ma quante ne stai donando Ma sei una pazza Maddy grazie per le rose Hai finito l'obiettivo Praticamente Sei pazza Oddio aspetta che forse Sto Leon Magari Dai Ma cos'è sta musica raga Dai ce la puoi fare Leon ti prego Dai Eh Ok No Ma perché Sì Ma perché Perché Più uno Perché Vabbè perché ero diamante Ci sta Almeno non perdiamo punti Eh Ok Xiao C'è Nuls Brawl Che è la stessa cosa Eh no ma io voglio Cioè a me mi avevano detto Che c'è tipo un brawl E un brawl Stars diverso Io voglio provare quello Comunque ora mi dite Ora mi dite Maddy quanto hai donato 145 rose Ragazzi Maddy è completamente impazzita Fermatela Perché io non so veramente Che cosa dire Boh Grazie Maddy grazie Oddio cos'è No perché foot brawl Aiuto Dormi Dormi Vado a fare gol Vado a fare gol Mentre i miei amici Mi aiutano Dai Sì però Eh Aspetta E il primo l'abbiamo eh Primo ce l'abbiamo Ok godo No Mannaggia Ce l'avevo Ce l'avevo Ce l'avevo Vabbè Quello è entrato con tutta la palla Direttamente Boh Vabbè Bronze 2 E vai Siamo proprio forti Raga Bello Bello Vabbè Vai Oddio Ah è vero C'erano i premi L'avevo dimenticato Sta cosa Ok Vai Continuiamo Nuls brawl High pass Della prossima season Grazie Mehdi Ma veramente Boh Io sono argento 2 Che schifo No scherzo Scherzo ovviamente Ok Esiste anche un brawl Dove Dove hai tutti i tipi C'è anche super mario Ma veramente No non scelgo edgar Voglio giocare solo con sandy Raga Perché mi mancava giocare con sandy Dormite Dormite tutti Madonna Che bestia Fammi fare pure gol E andiamo E andiamo E andiamo Ok vabbè Sì nelle divisioni Diciamo di base È molto semplice Di giocare Diciamo Mettiamola così Aia Ok C'ho 8 di vita Raga 8 Non so neanche come io sia vivo In questo momento Godo Tu dormi Eh no Però mi sa che non ce la faccio A killarla Invece si Godo Mamma mia ragazzi Mamma mia Mamma mia Comunque In footbrawl È tanta roba Ok 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 Nel frattempo stiamo facendo anche un fracco di missioni Cosa che mi fa godere parecchio Oh Pensavo almeno a qualcosa di epico Ma vabbè Niente di che Andiamo avanti Continuiamo Eh Ah quando vinci Ti danno i 50 coppe Quindi è tipo No sense Praticamente Nulse Brawl Beh vabbè Ci sta è tipo Per cazzeggiare Praticamente Ok Non so se l'ho ucciso Non so se l'ho uccisa Eccoci qua È arrivato Fatemi stare zitto Mi stare zitto Per favore Ragazzi mi raccomando L'obiettivo è quasi finito Di tiktok Eh se volete contribuire Tanto tra poco ne faccio un altro Però Che Meddi è una pazza Che iniziate a donare come una pazza scatenata Ok Adesso vi saluto Su tiktok Ragazzi Sto vedendo chi c'è Chi non c'è Un attimo Che Sto cercando di Vincere staranked Aiuto E muoio E muoio Ciao rinna Stanno tornando Chi è che sta tornando Chi è che sta tornando Ok Godo Aia È maciottato però Ma distrutto Ma distrutto Oh 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 Calmatevi Che è Che è Raga ma che fate Vabbè ma è uno scherzo Sì Abbiamo perso Raga Ma con chi sto giocando C'è Boh Vabbè Non ho capito Chi mi sono trovato Chi mi sono trovato vicino Vabbè Ciao Goz Eh no Sai perché ho perso Sai perché ho perso Perché è arrivato il bambino di 5 anni A scrivermi Xiao giochi per moda E quindi mi ha portato sfiga Capito Giochi per moda Il malocchio Esatto Me l'ha mandato Esatto Ho perso per quello Raga Cos'è questo Ah ok Dominio Andiamo Aspetta Questo però Ehi ragazzi Dormiteci su Dai Bravo Edgar Così si fa Va bene Sì è un buono Ok Stiamo calmi un secondo Che qua se no Facciamo danni Facciamo Oh no Eh sì Convinto eri Ok Fammi recuperare un attimo Sì ma i miei amici stanno facendo qualcosa Ah ok Quell'altro spike è di là Ok Calmi 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 Dai Edgar te lo faccio addormentare Dai Valla ad uccidere bro Questo si chiama essere un vero support Vedi Aiutare gli amici nel momento del bisogno Attivati che ci starei a fare qua Non avevo mai visto Umbra in tutto il game Comunque Boh vabbè Eeeh Ok Bene così 130 Martin Garrix Ok Il mio brawler preferito in assoluto Sì God Oh No vabbè Stavo per dire ci siamo quasi a squicchi In realtà manca ancora un bel po' eh Però Bello lo start drop così Eeeh Ok Continuiamo Eeeh Ok Sia ho fatto dei video su di te Ma tipo che video Sono curioso Comunque è bello il fatto che Senti non lo prende mai nessuno raga Mai Xiao se divento campione Mi faccio un tatuaggio che ho scritto Xiao sulla guancia Allora a parte che non credo che succederà mai Una cosa del genere Perché Non penso che esistano persone Più stupide da poter fare una cosa del genere Numero uno Numero due Eeeh Ti auguro di Diventare campione Perché sicuramente sei bravo e te lo meriti Ma non serve che tu faccia una pazzia del genere Perché Mmm Non c'è bisogno Non c'è bisogno Davvero Grazie per Il La dedica Ma non c'è bisogno Non voglio avere certe responsabilità Che già mi vengono i genitori In chat In chat su Instagram A dirmi che Obbligo i minorenni A donarmi su Twitch Evita perché non voglio genitori Che dicono Hai obbligato mio figlio A tatuarsi il suo nome Per favore Lasciamo stare Che già Ne ho di Di grattacapi così Per favore Non mi mettete In strane situazioni Grazie Vi voglio bene Mamma mia Xiao cosa sei Cos'è questa collaborazione Nella vita Ma ragazzi farà ammazzare Questo qua Veramente Boh Ok Allora Proviamo a far addormentare Tutti qua Vediamo se riusciamo A fare Arrivare un zonnellino Di massa Ok 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 Godo Godo Questa si chiama Collaborazione Ragazzi Però quello è uno stupido Si è fatto ammazzare Perché è un po' Uno stupidino Dai Mi dispiace Piper Doveva finire così Doveva finire così Ok Ok Si continua Si continua Si continua Si continua Ok Vai con Sandy Vedi che bello giocare Sandy Non lo picca mai nessuno Mai Mai nessuno Mai Xiao io ho rotto 20 telefoni E ho fatto crollare 5 case Distrutto 13 città Per colpa di Brawl Non so se è vera questa storia Nel caso dovresti essere in carcere Xiao ma allora la leggenda che hai sonno è vera E certo Sono il mio brother preferito Perché sarebbe Sandy Secondo te Ho detto la frase più Non italiana del mondo Però hai capito So power ranger Oh Godo Dormi Dormi Sono morto Sono andato addosso Sono andato addosso Stasera non gira zio Pero Beccato neugenio Che ma Eh sindaco Lo so Lo sto notando Io pure E' un pochettino E' un pochettino un casino Stasera giocare Effettivamente le do Le do davvero ragione Comunque il sindaco Che viene su tiktok Ragazzi E' veramente E' clamorosa questa roba Io non so veramente Che cosa dire E' assurdo Ok Aia Vabbè io fortunatamente Per il momento Sono bronzo Quindi non mi interessa Perché Non ho giocato le ranked Quindi per il momento Mi diverto Perché sono scarsi questi Però Un po' così Oh Colt Ma che stai facendo Vabbè ragazzi Ci hanno rotto il c***o Scusatemi eh Eh Quando ci vuole Ci vuole però Aia Ci credo Figa Ehm Ciao Arthur Ma raga Ma ci stanno asfaltando Ma mezzo che si E vabbè Però sto Brock Mi ha rotto le scatole Per non dire un'altra roba Godo Godo Ok Sono invisibile Anche se mi ammazzano comunque Però provo a fare comunque danno E giustamente E giustamente vado addosso ai missili Perché c'ho Tre anni In testa Va bene così Ehm Oh ma c'è un'altra quattrolessia Che sta donando Com'è possibile Ci sono altre quattrolessia Nel mondo Non me l'aspettavo Onestamente Ehi No raga No raga No raga Vi prego però No raga Ma così No No Si No Ok C'è ancora possibilità di vincere Impossibile Però c'è ancora possibilità di vincere Ti prego Ti prego Ragazzi difendetevi Scongiuro No abbiamo perso 7% Si 7% loro 3% noi Ti prego Si fai qualcosa Ti prego Si fai qualcosa Ti prego 5 4 3 Dai Dai Questo Si chiama culo ragazzi E Brawl Ci insegna anche questo Illegale Questa cosa che è appena successa Illegale E andiamo Ok Sono felice onestamente Bello La persona più forte su Brawl Ma chi Sindaco Posso chiederle una cosa Se è ancora in live Mi può accettare la richiesta D'amicizia su Brawl Lo voglio come amicizia Lo voglio come amico Io non so qual è il suo ID Perché avevo visto il video Quello lì col cartello gigante Però non me lo ricordo Probabilmente ci avrà delle richieste piene Però Vabbè nel dubbio O se no me la manda lei Non lo so uguale Però sarebbe divertente Grazie Rin Grazie mille Aio Ok Arraffa gemme Via E vai Sempre consenti Mia zia Mio zio Mio zio Ok Ma Kiron Chiedo Auguri gigacione Auguri 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 Mami di più la tua famiglia O Kiron Scelta veramente difficile Non saprei cosa rispondere E la Ludo E vedi rigiocare Ludo Dai Dai vai a dormire Edgar Madò che bello poterlo stunnare Edgar È una goduria Immensa Voi non avete idea Di quanto godo Ora mi ha rotto lui Mi sa però Vedi Devo stare zitto figa Devo stare zitto figa Va bene E Aspetta Eh Eh ma non c'è senso Vabbè Questo mi sa che la perdiamo Eh Arraffa gemme Boh Non lo so Mi sta iniziando Ma sto iniziando ad odiare Questa modalità E sto iniziando ad odiare Con tutto me stesso Brock Lo odio Eh vabbè Sono morto di nuovo Niente Impossibile Eh ho capito Figa Ma c'ha sempre la ulti Sto qua Muori idiota Aiuto Eh ma c'è un team Che Imbecilli Niente Sono morto di nuovo Impossibile raga Ah ma quello Bombardino Dai Ma puoi usare Bombardino Zì dai Per favore Bombardino Dai Ma ripigliati Figa Veramente Ma come si fa ragazzi Godo Godo Non ci credo Che sono morto Avvelenato Raga Eh ma raga È impossibile vincere Cioè non dovrei perdere punti In questa mappa io In questa partitina Non dovrei perdere punti Sì Solo per le robe che sto facendo Però Cioè come fai Eh vabbè Niente GG Possibile Vabbè Eh Niente Come fai Come fai Come fai Come fai Eh Vabbè Succede Dominio Dai forse è un po' meglio Insegna Mattarella A giocare a Brawl Ma che Non credo Eh Dai Vogliamo cambiare Vogliamo cambiare un attimo Dominio Mettiamo Dynamite Dai Just for the meme Just for the meme Eh Ok Mi subbo No Allora Stiamo attenti Stiamo attenti Godo Godo Guarda Guarda che bordello Edgar Ringraziami Edgar Vedi di ringraziarmi Edgar Vedi di ringraziarmi Edgar Ti conviene Ti conviene Edgar Ti conviene Facciamo perdere Dai Dai Che ti ho fatto fare Due kill Della madonna Ok Vabbè Che bordello Raga Siamo qua Belli fissi Tranquilli Godo Ok Madonna Quello è scatenato Raga Pazzo Non lo fermano Quello Ok Vabbè Questo super chill Come partita Devo dire Non Godo Guarda che bordello Madonna Ragazzi Ok Incredibile Che sono riuscito A tenerlo Ok Easy Proprio Questa partita Ok Harry Potter Si chiamava Quello Poi Boh Vabbè Ok Dai Almeno voglio Arrivare Silver Ci vuole una vita Per cambiare Area Oddio 46.000 Coppe Raga Ma quanto Minchia Siete forti Ok Ok Siamo a 1183 Vabbè Ce la facciamo Penso ormai Io poi più tardi Mi ci metto E la faccio Pure perché Ne ho un po' Da sbloccare In teoria Va bene Grazie Laura Per il coso Del sindaco Il L'idio Rapina Vabbè Sempre Dynamite Switchamo A sto giro Come va Tutto a posto Tutto a posto Dai Non mi la mento Può andare peggio Può andare peggio Fino a che ora Stai live Boh Ragazzi Sono ancora Le 9-10 Chill Cioè Per il momento Tranquillo Sono Poi Quando mi stanco Che vedo che non ce la faccio Più stacco Per il momento È tutto ok Devo reccare un po' Raga Quindi a prescindere Devo Mi serve stare Al pc Ehi Godo Godo Ok Vabbè Io per il momento Sto facendo il mio Fatemi Qua però me ne devo andare Se non muoio In realtà penso che morirò Comunque Però ci provo No pensavo Godo Bravissimo Eh qua muoio Vabbè Gigi Sono rimasto in vita Fin troppo In realtà Va bene Va bene Grande Ile Che sei venuto Dalla tiktok Bravissima Ragazzi Mi raccomando Continuate a venire Dalla tiktok Che a me fa sempre piacere Se venite qua su twitch Aia Oh Basta Ok Godo Occhio a quello Ma che sto facendo Ah vabbè Aspettavo la ulti Ok Godo E occhio però Che qua a crepare Ci vuole un attimo Allora io vorrei Sbloccare la ulti E fare tanto danno Ok Ok Perfetto Mi va bene così Quello che ho fatto Siamo a 48% Loro ce l'hanno Ok E mi devo mettere Un po' a fare danno Però c'è sto Edgar qua Che Figa Ti prego Fai qualcosa Zio Aiuto Aiuto raga Grazie Che mi hai curato Bro Eh ma muoio comunque Muoio comunque Muoio comunque No No zi ce l'abbiamo La 27 noi Abbiamo perso Mi sa vero Non lo so Può essere Sì penso di sì GG L'abbiamo perso Siamo morti Per pochissimo Però abbiamo perso 31 a 27 Vabbè Ci sta Ho perso solo 23 punti Va bene così Dai Torniamo No consenti No non lo so Andiamo di Edgar Solo perché sono cattivo Rago Ma cosa ci fai qua Non ci credo Non puoi essere quello vero Zio Madonna ma quanto tempo Aiuto Kevin Sei veramente tu Non ci credo Quel nick poi Aiuto bro Ma Una vita Come va Allora Eeeh Boh raga Scusatemi Non voglio fare l'Edgar main di turno Davvero Però Boh mi andava di Di giocarlo un attimo Perché mi sentivo Edgar Ehi Mi ha ucciso Mi ha ucciso Come va Tu lavori ancora In cucina Sì Sei in Italia Tipo come Come sta andando la vita Racconta Racconta Eeeh Quanti Quanti ne ha Lui sei No quattro ne ha Aspetta Questo è un problema Perché adesso morirò 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 Palesemente Mi sa che sto game Lo Ce l'abbiamo al bar Abbiamo perso Abbiamo perso GG Abbiamo perso Non è detto Non è detto Non è detto Non è detto Possibile Ma non è detto Sta diventando più difficile Del previsto Questa Aiuto C'ho uno di vita Ok E loro ne hanno comunque Eeeh Veramente difficile Dai Sì ti prego Ah niente Non ce l'ho fatto GG abbiamo perso Possibile Eh raga Il team Il problema Quando Quando c'è gente Che gioca così C'è poco da fare Ricercati Va bene Allora Vai Maxine Così Eeeh Aspetta Ah ok Devi partire per Ibiza Che figo Ma Domanda Ecco Questa raccogna Domanda che ti volevo fare Perché considera che io Qualche tipo settimana fa Mese fa Mi è andata a riguardare i video Dei cucciolotti Sì Tipo tutti quei video che facciamo Noi ai tempi di CS Eccetera Ma tu hai mai più sentito Qualcuno Della vecchia Diciamo del vecchio gruppo Perché io mi sono trasferito A Milano ormai Quindi Allora Aspetta che qua Godo Aspetta però Mi devo ricordare una cosa Non c'ho la mutazione Me la devo ricordare Questa cosa Godo Riprovaci Ok Ma con chi Scusami Con chi è che giochi Non sono troppo curioso Sì No vabbè No vabbè Aiuto Victoria Rosier Ha regalato Un abbonamento Vicky Quando stai giftando Grazie Vicky Sei una pazza E dai Ok Eeeh Quanto abbiamo fatto Tre Boh vabbè Grazie Grazie mille Grazie mille Vicky Allora Ciccio Silvio Cioè quindi ancora Ma giocate a che cosa Scusami Io Ciccio L'avevo sentito Qualche mese fa Perché vabbè tipo Si era complimentato Per il milione Eeeh Su youtube Però io Non ho sentito più nessuno Ma anche perché Penso che tipo A qualcuno di loro Vabbè Ciccio ovviamente no Però penso che a qualcuno di loro Gli sto sulle palle Palesemente Per qualche strano motivo Eeeh Ma cosa Ma non lo prenderò mai Colt Come ti permetti Di consigliarmi un brother Del genere Eeeh Se ho scoperto Cosa c'è sopra il castello Di tentacle Ma mi pare che anche Vicky c'è salita Vorrei donare Ma non serve donare Ragazzi Non c'è bisogno Non vi preoccupate Eeeh Ok Vai andiamo di colt Non so perché sto utilizzando Colt così Non lo so eh Aiuto Ok Madonna Si l'ho quasi chillata Non ci C'ho uno di vita Calma 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 che sono morto Ok Anche lui ha uno di vita In realtà Occhio Si ma che fai Ma che fai Ah ok No vabbè mi fa piacere No boh Diciamo racco che Fondamentalmente Allora So che purtroppo Gela è una città Molto invidiosa Soprattutto nelle persone Ti dico che il 90% Di miei compagni Delle medie Fanno finta tipo Di non conoscermi Invece che ammettere Minchio lo prendevamo Per il culo ai tempi Però bravo Che ce l'ha fatta E quindi ho sempre paura Che qualcuno tipo Abbia del pregiudizio Su di me E però no vabbè Ciccio lo so assolutamente Che è contento Ma perché vabbè Ci ho parlato pure Ti ripeto di recente Quindi non ci sono dubbi Gli altri non lo so Onestamente Ma più che altro Perché effettivamente Non so Se lo sanno tutti davvero Chi sono Tra virgolette diventato Cioè Non che mi importi Però vabbè Fa sempre piacere Comunque se quelli Della tua città Ti supportano Io vorrei solo Rancare silver E poi smettere Con questo video Perché il video era Io che divento Diamond Ma sto recando Da 40 minuti E non c'ho proprio voglia Di arrivare a Diamond Così Perché devo stare Sette milioni di ore Quindi non A uno a uno Quindi così Brutta roba Zio Ok Simon invece Non so che fine ha fatto Racco Mi ha scritto di recente Suo fratello Che si guarda i miei video Gabriele Gabriele si chiama E Simon Non lo so Io ho visto che per un periodo Ha iniziato a fare il trapper Ora non lo so Zio Non so che fine ha fatto Resta mente Non so manco se a Gela Considera Non so Boh Sì si la voglio Quando vuoi Davvero Anzi mi fa C'è la piacere Se ci vediamo Oh no Godo E l'abbiamo vinta così Dai che andiamo Dai che siamo quasi silver Dai ce l'abbiamo quasi fatta Ah da Da quel gv Non l'hai mai più sentito Boh Però non sia morto Cioè non lo so Settemila anni fa Che tal Volete sapere una cosa incredibile Il famoso Raku Che state vedendo in questo momento in chat E' stata la persona Che è riuscita nel 2017 A farmi autografare La maglietta E il libro Da Stepney Perché io non c'era arrivato Che c'era troppa folla C'era un bordello Lui siccome tipo è alto Sette milioni di metri E Si era messo in mezzo alla folla Siccome io ero mega fan Vabbè Si può confermare anche lui Era riuscito a farmi Firmare Tutte le cose Grazie Vitto Grazie mille Grazie mille Per i 100 bits Entra in un presidio Aspetta che facciamo addormentare Un po' di ragazzi Qua che hanno sonno E vogliono dormire Come il nome del canale D'altronde Oh Let's troll youtube Sto giocando contro un altro youtuber Non esiste che devo perdere Allora Mi dispiace E' più forte di me E invece Tommaso0320 Che fino ha fatto Quello Quello tanta roba La mitral gaming Che roba incredibile ragazzi Via Tutti a dormire Vai Aspetta che qua è grave la cosa però No ragazzi Comunque Sandy è veramente fuori di testa Sandy è veramente fuori di testa Sì Fuori di testa Troppo forte sto brawler Raga Ditemi quello che vi pare Figa ma E' incredibile C'è Ok Aia Troppo E' illegale Raga ve lo giuro Io lo amo Lo amo Scusatemi Mi sbaglio sempre Ok Perfetto Ok Guardate quanti punti Mi mancano a 1500 Raga Eh ma vedi che io Oggi la scendo pochissimo Fra cioè Ma veramente poco poco Ormai tre anni che abito qua eh Siamo comunque ieri Mi hai regalato un abbonamento Sul canale di Mac E ti volevo ringraziare Figurati Non ti preoccupare Penso che ho regalato Più sub a Mario Che in generale Tipo in assoluto A streamer A persone raga A Mario tipo In un mese Gli ho regalato 60 sub Tipo 400 euro di sub Gli ho regalato quasi Boh E lui ogni volta che viene qua Non mi regala manco una sub Quel maledetto schifoso Boh Ah qua sono due ora E facciamoli addormentare Sti ragazzi Dai Aia No ok ragazzi No no però non così Non così però Cioè Vi prego Non così Va bene No vabbè tranquilli raga Lasciate quello vuoto E questo vuoto Ma così si gioca Io rimango fermo E ve ne andate a foglia E la vostra famiglia AFK Non gioco Cioè se devo giocare Con questi team A questo punto Reportatemi Cioè tu ti rendi conto Cioè non vanno Né in uno E manco nell'altro Stanno nel mezzo Ma quanto vi meritate Proprio che Che vi sterminano Proprio tutta la stirpe Cioè Dai Perdiamo sto game Per favore Dai Eh Per favore Eh Certo scusatemi Va bene tutto però No non giochiamo insieme Sto giocando da solo Figa Basta Devo dirlo Quello poi si arrabbia Eh di nuovo dominio Vai Bellissimo Vabbè Eh Grazie 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 mille Calma Fra Ma non ho detto Assolutamente niente OBG Per favore Non ingigantire le cose Perché vuoi stare al centro Dell'attenzione Perché ti ho detto Semplicemente che sto giocando Da solo Non ti ho insultato Alla famiglia Tranquillo Siccome da tre ore che spammi Almeno te lo dico E lo capisci Non ti ho insultato Nessun genitore Tranquillo Non Non ti preoccupare Ma poi fra Ma tu can usci Boh Eh Ok Vado anche qua Abbiamo perso GG Grazie Bea Per i cuori Grazie mille Scusa la domanda Sei etero Sì E allora perché ti tingi le unghie Perché ti metti lo smalto Per favore Non replicare così alla domanda Perché ti giuro su dio Che divento indemoniato Adesso lo farà apposta Perché pensa che mi arrabbierò davvero Ma non esiste Non succederà mai No no tranquillo Tranquillo Stavo scherzando Semplicemente ci scherzo sopra Perché è una domanda Che mi fanno sempre Quindi per quello Non ti preoccupare Non Bello comunque Che mi mancava un punto Per arrivare a silver E sto perdendo tutte le partite Ci sta Ci sta Bello 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 Molto bello Io avrei smesso di giocare Guarda Sta per succedere Non ti preoccupare Non ti preoccupare Che siamo lì Siamo lì Siamo lì Conosci CG5 No So chi sia Basta con sto dominio Va bene Kevin mi ha fatto piacere Ci sentiamo Ciao sono tornata Oh no E' tornata Martius La bella E' tornata Martius La La persona più tossica Del fandom La persona più tossica Del fandom Shasha Oh 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 Vedi che bello Giocare con Dynamite Bello Tossico Proprio Bello Tossichello Proprio Bello Tossichello Guarda qua Ecco giustamente Io mi ammazzo Perché sono scemo Sei veramente No dai che torsellina Si arrabbia Non me le fate dire Queste cose Dai Eh si Eh volevi Ok Sono stata Buona nottata Grande Giorgia Ti ricordo che hai 19 anni Vabbè figure Eh Ok Guarda Xiao Come si destreggia bene Con quelle fette di formaggio Che io odio eh Però lo so lanciare addosso alle persone Perché ovviamente Essendo che mi fa schifo a me Io lo utilizzo come un'arma raga Capito Per quello Non per altro Godo mio zio Ma chi è Anamena quella Chi è quella che fa Le collab con Ok Non ho tante monete Rin Non ti preoccupare Non serve che tu doni Puoi stare di semplicemente in chat E io ti vorrò bene comunque Non ti preoccupare Non mi servono per forza i tuoi soldi Stai tranquilla E si gode E abbiamo vinto Silver 1 Il rank più forte del mondo No scherzo raga Fa cagare Però non sapevo che video fare E quindi questo video sarà Gioco per Non so quanto tempo O epico Al ranked di Brawl